va bene allora vi dicevo che appunto con quello che faremo è vedere quanto un gis e vedere come con quanto un gis si riesce a elaborare una sequenza di dati di dati cartografici per arrivare poi risolvere i nostri problemi molto probabilmente quelli che stanno usando crowd map crowd ma va più che bene però quando volete iniziare a fare personalizzazione di qualche genere allora il discorso va un po più in là la necessità di prendere i dati semplicemente passate che avete la mappa di google sotto è vero che google permette di fare tante belle cose però non vi permette di accedere ai dati che ci sono dentro google se volete rappresentare in maniera diversa eccetera ma questo l'avete visto con open street ma allora qua invece andiamo sulle cose un po più noiose e pesanti che sono praticamente il significato di cosa vuol dire dati geografici allora come dicevo prima adesso si assiste a quella che viene chiamata gis diventato wiki la neocartografia perché basta che angelo in agio lì si faccia un tatuaggio sul braccio con le coordinate di dove vengono i fili che ha adottato che subito qualcuno prende e fa un mashup di dove si ritrovano queste qua una cosa che fino a qualche anno fa era praticamente impossibile e quindi bene o male tutti quanti diventano cartografi la domanda allora è sempre special special perché quando parlate con un cartografo con un esperto di dominio è sempre abbastanza sulle sue perché si domani pensa di essere particolarmente speciale in effetti lo è per tanti motivi però l'informazione geografica diventa sempre più facile da prendere da capire e diciamo adesso banalizzo fortemente perché dopo tutte le professioni non è che sono stati che si evolvono nel tempo e quando le cose diventano più semplici che faceva una professione prima semplicemente si evolve diciamo che usare adesso un software gis lo dico scherzando chiaramente come usare un foglio di calcolo quindi anche il foglio di calcolo c'è tanta gente che non lo sa usare dopodiché l'esperto di dominio comunque si porta dietro tantissima conoscenza su passa su cosa vuol dire il dato strutturato eccetera per cui inizia a fare veramente la differenza in ogni caso noi rimaniamo un livello un po più alto e partiamo a quelle che sono le ricette del gis le cose che dobbiamo sapere allora prima cosa che sapere che la cosa che si dimenticano tutti sono le proiezioni e le proiezioni non ce n'è una ce ne sono tante questa ma immaginate xkcd ve le fa vedere perché penso che a scuola ve le abbiano raccontate queste storie delle proiezioni tutto spiano che la grolandia più grande eccetera eccetera che proporzioni sono quelle che sono quindi una di queste proiezioni appunto quella cilindrica ma soprattutto quello che dobbiamo fare riferimento è che penso che anche qui sfondo una porta aperta che la terra non è piatta anche se c'è una società che si chiama fra la terzo stai society che definisce che la terra piatta e allora quando abbiamo a mano i dati dobbiamo capire prima di tutto cos'è il datum e dopo dobbiamo capire qual è la proiezione che è stata utilizzata il datum è l'elissoide quello che vedete qua che cerca di approssimare più possibile la terra che non è neanche una sfera ma è un geode perché allora quando avete dati l'altitudine longitudine non è vero magari una latitudine longitudine di verso la sparo 30 anni fa non è detto che vi porti non si sopposte nell'altitudine longitudine che vi segna adesso vostro cellulare perché tutto fa riferimento a questa definizione e la definizione che viene usata quella che va più in moda di più di moda adesso vgs 84 quindi la prima cosa che si fa è avere questo datum di riferimento da lì parte tutto quello che è la definizione della griglia dopo il problema è quale griglia torna dietro anche se non è bello nelle slide quale griglia devo trovare una x y un punto di partenza da cui fare tutto quanto e dopo andare a disegnare e poi dipende come perché questa cosa qua ho fatto una proiezione cilindrica ma ce ne sono tantissime che torna con indietro anche se non si dovrebbe ad esempio tutte queste proiezioni no questa qua quella che mi piace un sacco la la di maxion che vedete che è tutto e allora già il primo problema che abbiamo è sapere qual è il datum dopo sapere se stiamo parlando di gradi i metri chilometri yard tutto quello che volete e l'altro problema che poi che abbiamo è sapere qual è il punto di riferimento da cui inizia tutto quanto guardate che fino a tipo ma i dati si trovano ancora così fino a 45 anni fa ma ancora si trovano i dati di un tempo l'italia usava il gauss boaga gauss boaga era fatti dall'ingegner gauss del genere boaga che per volontà in cui per dire al fascismo ha deciso che il punto di partenza dove si calcolava tutto era montemario quindi del montemario con riferimento quale sicuramente la wgs 84 a quel tempo ma era roma 40 se non sbaglio un altro praticamente un altro riferimento allora spesso vi trovate dei dati che vi appaiono simili perché fanno parte dello stesso reticolo al punto di partenza diverso in più il punto di partenza è calcolato su un altro giro un altro e di solida diverso allora cambia qualcosa poi dopo possiamo stare qua discutere sul discorso di precisione nel senso che se uno mi dice dove si trova paola io dico sul banco prima fila e va abbastanza bene come in definizione anche perché c'è solo una ragazza qui quindi si fa presto a capire che paolo però il concetto di precisione che questo qua per secondario il problema è quando avete fonti diverse che nascono in maniera diversa e quando vengono sovrapposte non sapete dove stanno questa quella definizione di utm praticamente quando vedete utm è un attraverso mercatore universale si è deciso di dividere il mondo secondo l'attitudine longitudine un meridiano parallelo dove si incrociano quando vi dicono 32 nord vuol dire che prendiamo l'incrocio a 32 nord che è 32 sud lo prendiamo sotto e ho visto che qua a bari si usa il 33 nord utm 32 nord come riferimento di solito però tutti quanti facciamo un altro tipo di ragionamento ma ci arrivano di dopo il ragionamento è che tutti quanti ragioniamo adesso l'uomo della strada parla di latitudine longitudine senza sapere a quale fa riferimento il vostro cellulare fa riferimento a qualcosa ecco quando dove trovate vgs 84 vuol dire che andiamo a fare riferimento a quella cosa lì e psg 43 26 e psg è un'organizzazione internazionale european petrol soil e gas una roba simile è un'associazione internazionale un'organizzazione che si occupa di andare a recuperare petrolio gas in giro per il mondo quindi a mappe di tutto il mondo proiettato in tanti modi diversi ha iniziato a farci la sua bella tabella e le psg avete queste tabelle che vanno dietro l'altro che in realtà contengono le formule in cui dichiarano cos'è il datum qual è il punto di riferimento cos'è la tipologia di unità di misura usata eccetera quando voi allora avete dati latitudine e longitudine la dati dal vostro cellulare comunque diciamo che sono 90 per cento di quelli che trovate in open data la parolina magica e psg 43 26 un'altra proiezione con cui probabilmente vi scontrerete tanto è la 900 913 che poi adesso ho visto che è cambiato anche quella comunque il google quando ha fatto google maps ha cercato di inventarsi una proiezione c'è anche riuscita che copre tutto il mondo sempre fregando se un po del concetto di precisione per intenderci siete l'equatore è preciso siete su al nord al polo dal polo non ci arriva neanche perché tali e poli la proiezione ma siete in finlandia c'è qualche errore che magari qualche metro ma chi se ne frega tutto sommato secondo per quello che è l'obiettivo di google ok allora quando vi trovate l'altro tipo di proiezione trovate questa prezione 997 13 che come capite come c'è scritto sotto è la versione ai numeri della parola google 9 la g 0 la o 0 1 3 e quella lì perché ve lo dico perché poi spesso e volentieri un errore grosso che viene fatto si usa la mappa di google a parte che termini di utilizzo vi dicono che non potete ricalcare però voi ricalcate le cose da google in realtà sono riproiettate male non sono i wgs 84 sono i 900 l'immagine che vedete i dati che inserite o che visualizzate sopra google earth google maps ci penso che a farsi la trasformazione di questa cosa quindi diciamo che da fissare i paletti sono quando quanto meno su queste due per uno sviluppatore 43 26 900 113 e dopo quella di riferimento dei dati che andate a pescare che vi danno poi cosa abbiamo le psg simbolo detto prima perché dov'è che potete trovare risorse su quello che riguarda la referenza e allora andate su special reference punto org lì ci sono tutte su quel sito le trovate tutte quando trovate una parolina di te questa psg che numero è andate lì le trovate tutte le trovate anche tutte le formule matematiche una serie di file che vi spiegherò dopo che sono utili per angolo degli sviluppatori pro g4 sono delle librerie in c che permettono di fare queste trasformazioni in automatico le date la formuletta loro si arrangiano fare tutto quanto sono fatte in c ma sono anche fatte in java e altre cose quindi primo punto è capire sto raccogliendo i dati capire cos'è la mia proiezione secondo punto è il modello dei dati e modello dei dati sono due o dati discreti e dati continui i dati discreti sono molto facili a capire sono quelli che userete più spesso si parlava prima di crowd map quelli sono dati discreti sono dati vettoriali sostanzialmente sono insieme di punti di linee poligoni che descrivono degli oggetti geografici cos'è che hanno il vantaggio che per fare una linea non ho bisogno di tutta la sequenza di punti che descrive la linea ho bisogno dei punti per cui passa la linea l'avete visto poi con open street map e questo nei dati di punti la tipologia di dati elettoriali i dati continui invece sono matrici e potete immaginare semplicemente una fotografia una fotografia sapete cioè una matrice una maglia una griglia in cui ogni cella c'è un colore i dati continui sono proprio questi si vengono chiamati raster e gli esempi che ci sono assegnati sono i modelli digitali del del terreno le celle dove arriva dell'energia solare e le foto aeree detto in altre parole le foto aeree è facile a capire perché l'ho detto prima voi immaginatevi basta che guardate per terra le mattonelle ci sono descrivono mosaico questo mosaico ogni ognuna di queste mattonelle ha un colore è un numero che tengo se quel numero lì è il colore sarà un ortofotocarta o una descrizione tipo la quantità di energia che riceve quel quadrato di terra ok se invece c'è un numero quel numero lì potrebbe essere un'altezza allora si parla di modello digitale del terreno quindi avendo questi valori qua voi potete esplodere in 3d tutto quanto tutte quante le informazioni vi torna queste qua però è importante che siano georeferenziate cosa vuol dire importante che ognuno di questi oggetti che vado inserire che siano matrici che siano linee i nodi per cui passano abbiano delle coordinate solitamente quando si ha una matrice tipo un ortofoto oppure il modello digitale del terreno è importante avere le coordinate di un punto spesso dell'angolo e sapere poi il passo della cella ogni 10 metri quindi a quel punto è qua ogni 10 metri e soprattutto cos'è sempre se siamo nel caso del modello digitale del terreno cos'è il valore nullo perché quando arriva al mare si deve andare sotto avanti di questo passo poi dipende sempre come voglio gestire il dato un esempio di raster allora ve l'ho già fatto comunque come vedete lì c'è una cella colorata con dei colori a sinistra la sua rappresentazione a destra cosa sono i valori contenuti e qua come è un possibile formato di file con cui andreste a sbattere la testa e con file di testo non fa di testo perché fa l'aperto questo che nella prima riga qua vi dice numero di colonne 4 quindi vorrei dire che ci sono quattro colonne numero di righe 6 poi y ll corner y y coordinata y ll e sta per il l'angolino in basso a sinistra love left corner e dice 0 la x l'altro quindi ho esattamente cos'è il punto di una coordinata esatta dopodiché trovate cell size 50 quindi vuol dire che il passo è 50 secondo unità di misura usata e dopo sotto beh trovate no data di dice cos'è che non cos'è valore quando non c'è dentro niente quindi fa meno 9 9 9 e dopo trovate la sequenza di numeri quella sequenza di numeri il computer capisce che una cella una griglia che ha descritto sembra una roba strana però quando lo usate un software di di gis quella cosa lì magicamente appare e si capisce cosa fa e vi permette anche di fare delle cose molto potenti potenti perché ad esempio questo qua modello di sito del terreno in cui stato quella zona del laos sono sbaglio e sono sbagliato che ho fatto l'immagine e lì è una scala di grigi in relazione al valore che è stato dato scala di grigi che posso anche decidere di cambiare i colori e decidere che dov'è il valore più si avvicina al valore nullo è azzurro quindi l'acqua e dove si avvicina invece il più alto lo faccio diventare marrone per dare l'idea che sia montagna questo qua è colorato però come vedete lo posso esplodere in tre dimensioni esplodere in tre dimensioni mi permette di fare delle cose anche molto più interessanti perché non è soltanto la visualizzazione ma provate a pensare se voglio avere un modello che mi fa vedere dove se c'è un inondazione dove che potrebbe andare finire l'acqua oppure semplicemente cos'è il percorso più breve a piedi e meno faticoso avendo praticamente tutti i gradini i dati vettoriali invece questo qua non è che sia proprio un bel formato ma è fatto apposta per gli sviluppatori dati vettoriali oltre che a tenersi le coordinate che quello vedete subito c'è scritto coordinate ci sono dentro due numeri potrà avere un terzo numero che l'altitudine x y z però vedete che vi dice la geometria tipo punto quindi già definisce che sarà un punto ma la cosa più interessante è che quando c'è proprio scritto niente quel property che su ogni valore che voi inserita nella geometria potete aggiungere degli attributi allora dato il punto di rivel l'ingresso di questo edificio si può dire che tipologia di edificio è e avanti di questo passo lo decido quando lo rappresento se una farmacia piuttosto che una scuola avanti di questo passo con tutti gli attributi e sui attributi posso fare un sacco di informazioni extra che adesso vedremo vedete ad esempio poi l'altro vantaggio chiaramente mi è scappato il dito l'altro vantaggio è che essendo i dati già riferiti che avete lì che avete punti che avete linee vi permette di fare l'overlay di tutte le informazioni mettele una sopra l'altra in questo caso qui ho messo mi scrivo la dita su sto cosa si vede che non è il mio computer questo caso qua ho messo il dtm il modello digitale terreno sotto e allora tutte le cose vanno sopra ma la se avessi messo sopra le altre cose non le vedrei ma lo vediamo dopo con software perché chiaramente se si filano uno sotto l'altro dimmi versioni che stai facendo vedere sono gli stessi dati però visualizzati in modo diverso allora allora i dati che io ti sto parlando del modello dei dati il modello dei dati è vettoriale raster e qua penso siamo a posto una volta che vettoriale raster io te li ho fatti vedere in questo modo perché li puoi rappresentare in maniera diversa io avrei ho fatto ad esempio i punti sono in azzurro ma avrei potuto anche fare del giallo fluorescente non è un problema quello che mi preme in questo momento a dirti il modello dei dati è fatto così punti linee poligoni o raster griglie cos'è il potere che hanno questi dati i raster praticamente li posso colorare se io li tiro e raster li deformo perché non si portano dietro le proporzioni fra di loro se un vettoriale lo tiro si porta dietro le proporzioni fra di loro questi esempi che ci fai vedere sono anche per dire utilizzando quale quale formato il formato adesso non ci sono ancora arrivato che tu hai qua sotto hai un dato raster che me lo sono colorato io ok e l'ho colorato secondo le sue proprietà ok ho fatto sopra un dato vettoriale che sono queste linee qui l'ho colorato secondo le proprietà io ho fatto un dato un altro dato raster scusato vettoriale di tipo poligonale che ho fatto in azzurro perché sono le e acqua se non sbaglio e ho fatto dei punti e li ho colorati quello che mi interessa in questa immagine qua è dirti che se questi dati sono già referenziati ok posso metterli uno sopra l'altro ok e il vettoriale va insieme al raster sono livelli ok sono immagini una sopra dopo lo vediamo col software sono cose che fai una dietro l'altra è un foglio e uno l'altro quando dicevo che se questo qua lo metto in cima a tutti dato che raster è una coperta senza buchi se lo metto sopra tutti è chiaro che non li vedo e le cose che si sovrappongono non le vedrò mai vedrò sempre quella che è l'ultima all'occhio il computer però lo sa perché i dati parlano quando dopo li interroghi infatti i dati parlano qui puoi fare delle query delle interrogazioni ho fatto uno zoom e qua praticamente su quei punti che c'erano ho individuato c'era dentro una variabile su maschio femmina e ho fatto vedere dove sono i maschi e le femmine ho deciso di usare un colore relazione a questa informazione qua quindi mi permette di interrogarli dal punto di vista spaziale perché ho fatto uno zoom e dopo di interrogarli dal punto di vista degli attributi e in questo caso l'unica cosa che ho chiesto è quella di colorarli e ho colorato in azzurro i maschi in rosa le femmine che tanto fantasia e ho messo come etichetta quello che c'era scritto dentro che non è un granché ma io la cosa che forse non sono riuscita a chiedere cosa mi permette di interrogare il software il software interroga i dati il software interroga i dati ok poi dopo quando hai dei dati come un network con una rete strade puoi fare dell'analisi di rete quello che voglio derivare la ricetta cos'è proiezioni e ci sei modello dei dati interrogazioni puoi fare interrogazioni spaziali zoom oppure questo tipo di interrogazione fai finta che adesso dovrei leggermi la slide dovrei ricordarmi ma ogni colore è dato un punto cosa riesco a raggiungere a piedi in cinque minuti dieci minuti su distanze quindi che mi obbligano a fare dei percorsi quindi analisi che era poi il discorso che ho fatto all'inizio raccolta pulizia analisi e rappresentazione rappresentazione se la stiamo portando dietro qua no perché sto facendo slide dopo facciamo calcoli quindi quello che tu puoi fare quei dati una volta che dati sono costruiti in quel modo sui dati vettoriali può fare quel tipo di lavoro e sui dati raster un altro tipo di lavoro quello che puoi fare assieme e sovrapporli e anche intersecarli fra di loro per fare delle interrogazioni ma le vediamo dopo ok comunque fai bene a fare domande perché potete anche associare dei grafi georeferiti allora questa qua è la provincia autonoma di trento queste aree qui penso sia le comunità di valle non penso sia i comprensori ma perché sono spaccate prima le comprensori su comunità di valle e praticamente ognuna di queste informazioni che vede e che vedete sono dei grafici che ogni una mi rappresenta ad esempio classi d'età e grazie a queste informazioni posso dire che su trento che chiaramente la zona più abitata del trentino ci sono i miei rappresentata questa queste classi qua torna sul modello digitale del terreno se un modello digitale del terreno posso vedere le radiazioni solare è un esempio di calcolo che posso fare ok pannello fotovoltaico quanta energia ci va cos'è che succede allora come dicevo prima modello digitale del terreno posso calcolare il profilo no calcolando il profilo posso calcolare le ombre che possono arrivare quindi posso farmi vedere le montagne posso ricavarmi quello che qualche vedete le iso ips perché dove ci sono tutte le altezze uguali le unisco faccio le iso ips posso calcolarmi poi avendo poi la posizione esatta in quella lì so dove dove il sole durante l'anno e quindi posso vedere quanto sole arriva in un anno in quella zona lì a quel punto mi crea una nuova matrice questa è solo una rappresentazione e questa matrice cambierà i suoi valori anziché dirmi le altezze mi dirà per ogni cella quanta energia solare arriva lì ti torna torna tutti precipitazioni lasciamo perdere sono solo esempi ecco su quello che riguarda invece la parte degli open data geografici allora la cosa bella dei dei dati geografici dei gis è che esistono da penso 40 anni se non sono 40 sono 30 sono 30 sono 50 quindi se esistono un sacco di tempo e ci sono delle organizzazioni internazionali prima abbiamo visto le psg ma un'altra è questa ogc che c'è in alto lì a sinistra open geospatial consortium che si occupa di fare in modo che si parli più o meno la stessa lingua il modello dei dati è quello vettoriale raster il modello con cui gli archivi un altro vi ho fatto vedere prima un esempio di una griglia fatta testuale però potrebbe essere anche fatta in un altro modo non quello ognuno decide allora che ognuno decide tanta gente tanti dialetti abbiamo fatto un po di regole però nel tempo prima che nascesse l'ogc è noto il problema di avere dati nato però anche ci sono tantissimi formati diversi c'è una libreria fantastica cui questa g dal geospatial database abstraction library che è quella su cui si basa sostanzialmente oserei dire l'ottanta per cento se non 90 per cento il cento per cento del software gis open source ma anche proprietario che permette di accedere a tipo un 60 formati raster o rovescio 60 raster e 30 vettoriale una cosa simile questo qua praticamente vi permette di leggere tantissime cose e quindi il problema dei formati aperti da un lato è definito tramite logici che non c'è soltanto i formati ma ci sono anche i protocolli interrogazione perché quando questi dati sono tanti bisogna andare a interrogare e serve delle lingue per poterli parlare e logici ne fornisce una serie di lingue che poi vedremo questa è il bg dal permette di leggere tutto allora se avete un software tipo quanto un gis che ha sotto g dal leggete un caso un macello di formati diversi dopo ci sono anche problemi il problema è anche quello di trovare dati allora vi sembrerà strano ma finché il partito il movimento pendato è nato in italia era più facile trovare dati d'italia negli stati uniti che in italia perché negli stati uniti qualsiasi cosa che finanziate con con soldi pubblici diventare di pubblico dominio e quindi più facile trovare le foto aeree d'italia lì piuttosto che qua molto stranamente open street lo conoscete in europa c'è questa direttiva inspire che si occupa più che di open data si occupa di integrazione fra di loro di formati di interoperabilità e anche di standardizzazione sui metadati come la chiamo l'indirizzo davanti di questo passo e questi qua sono ottimi strumenti allora vi dicevo formati aperti giusto per fissare qualche paletto quelli secondo me più importanti sono laser shape file che fa schifo fa schifo fa schifo lo ripeterò all'infinito ma è radicato non è neanche un formato aperto è un formato pubblico di cui sono note le specifiche però si riesce ad usare e voi dovete conoscerlo semplicemente perché se trovate il cartografo moderno neocartografo non lo usa anzi è probabile che voi siete più imbattuti sul kml che sullo shape file ma quando andate a prendere dati soprattutto pubblica amministrazione trovate shape file e questi dati qua come formato dobbiamo sapere come gestirli perché sono abbastanza noiosi un altro formato gml che è lo standard dato da logici che bellissimo sui sui ma che sono fino a quelli dell'ogici è un buon formato un formato xml che descrive formati di dati geografici non è così diffuso il geo json invece nasce dalla comunità hacker gli sviluppatori e per gli sviluppatori è il json con la componente geografica adesso sta lasciando un altro che topo json che è ancora meglio perché è ancora più compatto quello che vi ho fatto vedere prima che c'erano due numeretti due coordinate quelli non geo json allora io adesso non pretendo che tutti quanti qua imparano cos'è lo shape file però il formato la struttura non interessa però quando siete davanti a questi dati formati qua sapete cosa comunque avete a che fare il kml è quello che tutti amano e che io e penso anche gabriele odiamo nel senso che è il formato quello imposto che ha importato google in realtà google si è comprata questa azienda la keyhole e la cappa viene da lì e il kml è un bel formato per pilotare le applicazioni di google google maps ma per portare in giro dati non è così vincente è bello perché si porta dietro anche la rappresentazione dei dati ma è brutto perché non vi dice se quel dato lì è un è un testo piuttosto che una stringa che è un contenitore meglio di altri comunque quello che riguarda il vettoriale quello che riguarda il raster potete prendere gli asci grido e geotif gli asci grido sono quelli che ho fatto vedere prima fa di testo che ci ha spiegato dentro tutto speriamo che non sia difficile ci chiedono che differenza c'è tra formato aperto e pubblico di cui si conoscono le specifiche quello che si per sostanzialmente un formato pubblico di cui si conoscono specifiche è un'azienda che ha reso disponibile queste specifiche ma se domani le girano di chiuderle non c'è non c'è altra via uscita mentre i formati aperti definiti da dei consorzi o comunque ben documentati eccetera sono questi l'azienda che ha prodotto lo shapefile che la esri un domani potrebbe tranquillamente dire ok metto una royalty sullo shapefile potrebbe non lo farà dubito fortemente anche perché lì conviene un sacco che continua a girare il suo formato sugli shapefile che è diventato uno standard de facto lo shapefile si riesce ad aprire perché c'è un documento che spiega come è fatto e quando voi aprite una shapefile potete trovare da 1 a 7 file in realtà lo shapefile non è 1 sono proprio 7 file 8 file 9 file allora se qualcuno è proprio simpatico ne trovate 3 se qualcuno è rigoroso dovete averne 4 vi spiego cos'è allora semplicemente sono quattro file che hanno in comune soltanto il nome lì c'è scritto file name e uno di quelli come vedete nella slide ha il suo motivo di esistere il file name punto shp contiene le geometrie dbf contiene la tabella degli attributi le shx è quello che fa l'indice tra la tabella degli attributi le geometrie e la colla 32 e questi qua diciamo che solitamente 1 pigro ve li dà perché programma non di funziona se non ci sono gli altri due se non ci sono se non c'è una shp la shx dbf qg ad esempio ma che non si apre allora se bisogna l'altro però si dimenticano un altro file che quello prg che fa delle proiezioni quindi spesso vi trovate dei file che sono i primi tre mi manca il quarto senza il quarto ciao non va a nessuna parte il prg infatti testo che contiene la formula delle psg che avevo detto prima quindi una cosa che torna facile da fare se avete la fortuna di sapere cos'è con la proiezione è semplicemente prendere un altro prg uguale e da lì lo stesso nome il dbf per chi non lo conoscesse un formato vecchissimo anni 80 forse anche prima e è una tabella la cosa più sfigata che c'è dentro è che i nomi delle colonne devono essere al massimo di 8 caratteri quindi già questo quando voi trovate già è un casino quando noma di una colonna ha un nome può essere anche semplicemente eccolo per dirvi i dati della provincia autonoma di trento lei i confini dei comuni c'è un campo che si chiama comu che non è sardo è stata per comune sotto che ha messo comu non c'è scritto nessuna parte poi ci arriviamo però anche perché la posizione trento roveretto insomma si trovi i nomi lo capisci però provate a pensare uno straniero che si trova sto comu e non capisce cos'è per non dire poi quando vi trovate indirizzo che qualcuno scrive via qualcuno scrive strada qualcuno scrive indirizzo è un altro passo è per quello che dico che è un brutto formato lo shapefile c'è di comodo lo shapefile scusate dbf c'è di comodo che dbf comunque se voi volete aggiungere attributi basta che aggiungete una colonna una colonna che chiaramente deve essere ogni riga corrisponde a ogni oggetto ma io non voglio perdere troppo tempo qua e servizi qua lasciamo perdere li guardiamo dopo su una serie di servizi ve ne dico soltanto più importanti guarda il primo il vms ufs lasciamo perdere vms praticamente è un servizio che vi permette di interrogare un programma gis remoto pilotato da un computer che vi restituisce un'immagine un'immagine georeferita questa immagine può essere una foto aerea io ho guardato che possiamo prendere le foto aeree della regione puglia oppure se una foto aerea è invece una potrebbe essere semplicemente la definizione di come deve essere rappresentate le geometrie decise da chi l'ha fatto il programma detto in altre parole i puntini che rappresentano le farmacie ho deciso che hanno una croce rossa sopra quindi quando trago il vms mi restituisce un'immagine con sopra le crocette invece il vfs è quello che quando lo interrogate anziché restituirvi un'immagine vi restituisce invece le geometrie gli altri lasciamoli perdere anche se nello slide c'è scritto ma preferirei usare sono bravo perché prendiamo un tms lasciamolo perdere lasciamo perdere anche questo software per interrogare i dati geografici ho chiamato i client ma sono desktop qua in realtà sono tutte applicazioni su tutte le brevi di javascript che potete usare quella che va molto di moda adesso è questo leaflet sulla sinistra invece sono applicazioni che potete usare sul vostro desktop sul vostro computer quella che useremo oggi è QGIS quella veramente raffinata spinta eccetera è GRASS che è quella erba che c'è lì quelle sotto sono altre applicazioni potenti GVSIG potente UDIG potente che potete anche usare sono applicazioni open source che vi permettono di gestire dati GIS senza nessun problema se invece cercate dati dati li trovate un po' su SIKEN questo public data EU vi permette poi di andare su tutti i portali il portale dei dati del comune di Bari usa SIKEN li trovate su questo sito natural earth li trovate sull'usgs comunque già se andate su dati.gol.it ne trovate dovete cercare chiaramente che abbiano le coordinate geografiche dentro dati geografici di qualche genere quello che facciamo adesso è andare a prendere un paio di dati dopo OpenStreetMap poi i suoi dati e qua lasciamo perdere tutta la parte di OpenStreetMap allora io vi ho chiesto a voi di installare QGIS qua tu c'hai QGIS sopra che versione hai? non si sa eh immaginavo perchè mi sono provato tutto sull'altra l'avete installato voi? va bene anche da 1.8 è uscita la 2 da poco allora quantum GIS lisboa uso il tuo a sto punto allora quello che facciamo adesso è andare OpenData Bari c'è una richiesta di chiarimento vai tranquilla è sempre lui? si è sempre Luigi Reggi il formato aperto è aperto quello pubblico potrebbe diventare chiuso in futuro capito bene Napo? si hai capito giusto hai capito giusto Luigi sto guardando capito il contrario invece in realtà tutti possono entrare chiusi è che è un formato che è fatto da un'azienda questa azienda ha deciso di dare le specifiche però non è che è considerato diventa uno standard de facto per fortuna che dalle specifiche ne escono applicazioni che permettono di aprirlo però non è come per dirti l'SWG il GML l'HTML che c'è un consorzio che si mette lì decide è uno che decide questa cosa parte fa e dopo questa cosa qua de facto si espande e anche perché ha successo allora sul comune di Bari ho visto che ci sono parecchi dati geografici c'è proprio una sezione dati geografici allora quello che facciamo adesso è andare a prendere qualcuno di questi dati prendiamo le circoscrizioni io mi ero scaricato tutto sul mio computer ma 50 download attacca dov'è che posso salvare? speriamo che io non so cosa sta facendo quindi da allora perché io ho sempre paura di beccare cose personali no? poi dopo la cosa che mi diverte è quando uso il computer di un altro no? che c'è uno skype aperto io quando vedo quel skype aperto mi scrivo sempre una cazzata davanti a tutti sullo schermo allora questo qua l'ho scaricato è un file zip il file zip a sua volta l'ho guardato qua l'ho aperto e tiro fuori tutto il contenuto che c'è dentro allora ho scaricato il file zip faccio doppio clic sul circoscrizioni.zip in questo caso qua e qua mi appare tutta la lista dei file che ci sono dentro però questi file sono dentro file zip li devo tirare fuori quindi mi ritiro fuori e decomprimo le circoscrizioni le porto fuori tutto chiaro? posto? allora partiamo dalle circoscrizioni giusto per se abbiamo lanciato QGI 6 io non so se l'ho lanciato si l'ho lanciato visto che mi è arrivato un tweet QGIS è uscito la 2.0 è uscita da un po' la versione 2.0 che è uscita da un po' è uscita da un po' tipo da 3 settimane una cosa simile forse un po' di più e ha portato fuori tanti plugin vecchi non ci sono più la cosa che mi interessava era far vedere una cosa che c'è sulla 2.0 non potrò farvela vedere perché non so se c'è sulla 1.8 che era molto interessante una volta che avete scaricato scaricato il file lanciate QGIS scaricato QGIS vi appare questa interfaccia forse vi arriva un po' diversa da quello che io ci siete tutti qua adesso posso andare avanti? a parte loro che mi piace gli informatici sull'unice senza computer posso andare avanti allora? allora QGIS in questo momento la prima cosa che vi faccio notare è che i file che ho scaricato prima sempre se li riesco a trovare i file che ho scaricato prima per fortuna sono fatti bene perché c'è dentro il file shp c'è il file dbf c'è il file shx e c'è anche il file prj dopo come vi ho detto ci sono altri file che non ho mai capito cosa sono quindi rispondendo a quella domanda di prima formato aperto sbn shp.xml comunque ci stanno e sono file che mi auguro che QGIS un software se li gestisca allora si quello sicuro infatti se vado su layer mi permette di aggiungere un vettore l'shp abbiamo detto che è un dato di tipo vettoriale ora lo andiamo a prendere faccio aggiungi vettore lasciate la codifica lasciate così com'è la codifica vuol dire che all'interno del file c'è del testo questo testo sarà fatto secondo una codifica caratteri supponiamo che siano dei file greci ci sarà la codifica caratteri greca guardando system vuol dire che prende quello del sistema operativo considerando che il file viene dai dati del comune di Bari mi auguro che quella di system vada bene che sia in italiano mi auguro poi sfoglia quindi vado a cercare il file che ho scaricato e come vedete in questo momento mi fa vedere soltanto il file .shp nonostante fossero tanti perché come vi ho detto sono n file ma in realtà ne basta uno solo se poi guardate qua in basso a destra c'è l'elenco di tutte le tipologie di formati che riesce ad aprire e come vedete sono tanti i formati che riesce ad aprire quindi adesso faccio doppio click su circoscrizioni apro e magia mi appaiono le circoscrizioni devi andare su layer fortuna che non abbiamo no c'è la minissima microfono ha detto una parolaccia aggiungi vettore codifica system sfoglia dopo che sei dato sfoglia vai a scegliere il file se non vi appare nulla è tutta colpa di paola no aggiungi vettore sfoglia si si mi sembra strano e quello che ci tengo a dirvi è che mi appare una macchia viola ma qualcuno apparirà una macchia di colore diverso ok magari vado a vedere ti è apparso? Paola ti è apparso? c'è tutto? non è difficile sono io che la faccio difficile non ti preoccupare allora appare appare questa cosa qua voi che siete di qui sapete benissimo cos'è quella rappresentazione io no però allora vogliamo capire come è fatto questo dataset qui purtroppo qua c'è tutte le finestrelle per aria quindi devo andarmi a cercare i comandi allora una cosa che vi consiglio di fare sotto visualizza se non c'è da voi vedete che io qua ho soltanto la finestra bianca con sopra la macchia viola che sono i confini del comune di Bari in teoria il file da quel che dice il comune di Bari dove abbiamo scaricato rappresenta le poligonali delle circoscrizioni allora prima di fare tutto questo una piccola cosa se non ce l'avete sotto visualizza pannelli c'è layer questo layer praticamente è una finestra che vi permette di gestire tutto quello che voi caricate posto sono veramente impacciato con windows perché adesso viene fuori allora poi questo qua come vedete vi appare qua circoscrizioni layer e sotto per me c'è un quadrato viola niente di speciale no? cerchiamo di capire i quattro file che abbiamo aperto che tra virgolette fino hanno fatto all'interno dello schermo allora l'SHP abbiamo detto che ha le geometrie ed è quello che io sto guardando il PRJ abbiamo detto che ha la proiezione QGIS mi sta dicendo la proiezione qua in basso a destra qua in basso a destra c'è scritto EPSG 32 633 che praticamente grazie al file PRJ quel file lì è proiettato in maniera corretta si sa in quale parte del mondo si trova qual è il datum e la proiezione avanti di questo passo come faccio a saperlo? esattamente su impostazioni proprietà progetto mi auguro eccolo qua non ve lo dice vabbè lasciamo perdere perché avevo preparato tutto su un'altra versione comunque l'EPSG 32 633 è l'UTM 33 Nord proiettata in WGS 84 WGS 84 ok l'elissoide del 1984 UTM quindi vuol dire che è una traversa al mercatore il 33 Nord vuol dire che va a prendersi l'incrocio sul 33 Nord ok a Nord quindi siamo sopra l'equatore e quindi si becca con quel pezzettino di Puglia se andiamo guarda 32 633 allora vediamo un po' EPSG cosa abbiamo detto? 32 632 giusto? 633 si perché la 32 è l'altra immaginavo eccolo qua vi ricordate che vi dicevo prima che c'è questo sito Spatial Reference questo Spatial Reference qua purtroppo c'è una piccola cosa questo dovrebbe una mappa del mondo che vi fa vedere la fetta però il sito da cui sta raccogliando le mappe è offline quindi non c'è però vi fa vedere una fettina e vi posso garantire fidatevi che qua in mezzo ci compare la Puglia con tutta l'Italia tutto quello che ci sta di sotto è una fettina ok? e qua come vedete ci ha spiegato tutto quello che è la sua proiezione vi fa vedere che bound il box che vedete rosso è dato da queste coordinate qua vedete che va da 12,0 18,84 quindi è una bella fetta se pensate che è espresso in gradi va da 0,180 e da 0,90 le misure x e y qua vedete come è espresso invece secondo le sue coordinate e dopo sotto ci sono tutta una serie di file che vi spiegano come poterlo usare con vari software ok? quello che vi può interessare e quello che vi ho detto finora è che qua in questo .prg file se ci faccio click verrà fuori un file di testo e quindi dice salvarlo quindi lascio perdere e fare un file di testo che è il file di testo della proiezione quindi se per caso dove avete scaricato i dati c'è scritto che la proiezione è utm32 nord vgs84 o epsg 32 non mi ricordo più il nome 32 633 se non sbaglio quella lì se magari manca il file .prg andate su questo sito prendete il file andate a fare click su prg lo salvate e gli date lo stesso nome del file con l'estensione diversa se si chiama circoscrizioni quel file lì dovrà chiamarsi circoscrizioni.prj e a quel punto avete il file delle proiezioni pronto torniamo sul nostro quantum GIS allora il prj abbiamo capito che lì è stato passato sappiate che se ha quantum GIS se non sia un prj quanto GIS vi chiede che proiezione è e vi viene fuori una lista di proiezioni e voi dovete sapere qual è e lì la dovete dare diciamo che il più della volte si dice 43 26 cioè latitudine e longitudine spesso con WGS 84 perché è quella che viene solitamente un po' più diffusa dei dati che si trovano in giro però non è detto che sia quello dovete sempre andare a vedere perché quando le proiezioni sono diverse è un disastro vedete le robe vi posso garantire allora adesso vi faccio vedere se muove la rotellina quello lì sparisce 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 al punto che non lo vedo più e uno ha caricato il dato e ne ha caricato un altro con due proiezioni diverse e dice non lo vedo poi pensa che magari sia sporco il monitor qua no? perché sono due proiezioni diverse sono due posti diversi del mondo o magari una espressa in WGS 84 quindi i numeri sono da 0 a 180 o 0 a 90 quindi rimane lì piccolino e piccolino l'altra invece c'è di quelle sberle di numeri perché se guardate qua in basso quando io sposto la manina qua mi fa vedere le coordinate come vedete sono delle belle sberle di numeri come faccio a rivedere quell'oggetto lì? qua dove c'è l'elenco dei layer bottone di destra zoom all'estensione del layer tac ed eccolo qui allora lo shapef l'SHP l'abbiamo trovato il PRG l'abbiamo trovato il dbf il dbf sono gli attributi associati a queste aree come facciamo? allora bottone di destra e c'è apri tabella degli attributi molto banalmente quel apri tabella degli attributi è il file SHX che abbiamo detto che è quello che unisce le geometrie con gli attributi l'indice vi ricordate? molto banalmente se la geometria che questa è una cosa contorta secondo me dello shapefile se questa qua si chiama uno dentro dbf potrebbe chiamarsi camilla va bene? allora nella SHX c'è un'altra tabella che dice lo uno si chiama camilla che poi in realtà lo chiamano tutti uno da una parte dell'altra è proprio allora apri tabella degli attributi quando apri tabella degli attributi ecco qua che è arrivato il dbf è chiaro? bottone di destra apri tabella attributi se non è questa bottone di destra non trovate questo l'icona è questa qua comunque che dovete trovare forse la trovate in mezzo a tutto il macello che c'è qua sopra apri tabella attributi e appare e come vedete vi dicevo prima del limite degli otto caratteri il primo campo si chiama descrizione in veneto il secondo si chiama nome underscore cir cir il terzo numero cir chiaramente a circoscrizione ci arriviamo però mettetevi nei panni dopo c'è queste due robe qua che se le tira sempre dietro gli shapefile che non servono a niente sono calcolati in automatico che sono shape length sta per length è la larghezza sostanzialmente il perimetro e shape area è l'area ve li trovate sempre dentro quando vengono fatti perché penso credo io perché non ci ho mai guardato guardo lui che magari c'è dovuto che fare perché penso che chi li produce il software in automatico li calcola perché probabilmente una volta per calcolare il perimetro e calcolare l'area i computer ci piegavano tanto lo tanto vale a calcolarli una volta è morta a livelli dietro però questi qua sono dati che si riescono a calcolare tranquillamente il perimetro e l'area fate attenzione che i valori sono 2d quindi il perimetro se per caso quella circoscrizione ha mezza finisce sulla montagna il perimetro non è che va a calcolare anche quello sopra la montagna prende quello che è quello che ha disegnato sono sempre approssimazioni bene come vedete comunque c'è scritto tutti i nomi degli oggetti allora vediamo dov'è palese santo spirito se faccio click su 6 eccolo lì dimmi possiamo fare un piccolo recap da quando abbiamo aperto il file fino ad ad ora fino ad adesso si posso farlo in una maniera leggermente diversa che scarico un altro file così mi porto avanti con il lavoro si 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 ok no perché voglio capire se non c'è il suo problema allora torniamo qua sul comune di Bari no io ho fatto un po' di indietro 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 e sono tornato praticamente su i dati geografici faccio i dati geografici mi appaiono tutti quelli che sono aree verdi cassonetti AMIU che qua ho una domanda da farvi subito i cassonetti sono dato che quando ho caricato questo si sono cassonetti ma della differenziata sono no volevo capire sono tutti differenziati perché c'è un dataset che c'è scritto cassonetti farmaci e plastica e volevo capire ok comunque scarichiamo proprio questo no cassonetti AMIU quindi io vado qua premo su questo AMIU cassonetti data ultima modifica 2006 premo su download e mi scarico il file salva poi ho visto un altro dataset prima che lo prendo perché ma lo facciamo dopo altrimenti qua è un casino allora l'abbiamo scaricato il file giusto per recuperare quello che è stato detto quindi mi sposto torno nella cartella del download in questo caso perché questo computer non è che questo computer lo metto io sono io che lo metto lì ma sono io che sono impacciato questo computer allora questo AMIU cassonetti eccetera lo decomprimiamo e comunque anche questo mi fa felice perché c'è l'SHP il DBF il PRJ e l'SHX quindi quantomeno riesco a lavorare con questi la domanda che mi posso fare è questo file qua ha la stessa proiezione dell'altro? potrebbero essere diverse potrebbero essere diverse allora adesso non voglio aumentare l'entropia dell'errore vi posso dire che il file l'ho già guardato mentre ero in treno che venivo qua e il file è giusto ecco qui allora abbiamo aperto il file lo vogliamo caricare va bene? quindi cosa faccio? vado su layer aggiungi vettore lascio così com'è quindi file, system eccetera vado su sfoglia cerco la directory dove ho scaricato tutte le cose e mi apparirà amiu cassonetti.shp faccio apri apri ed eccolo lì ed ecco lì tutti i cassonetti delle mondizie della differenziata che ci sono a vari dati da comune torna? posto? semplice? easy benissimo vogliamo vedere gli attributi per capire cos'è? quindi bottone di destra apri tabelle attributi ed eccoli qua c'è xy saranno coordinate espresse in utm 32 nord 33 nord però anche qua provate a immaginare se anziché lo shapefile che ha dietro PRJ questo qua fosse un file csv dopo vi faccio vedere come prendere un csv e trasformarlo in in data e metterlo dentro QGIS ma guardate qua c'è xy ci sono questi numeri qua come fa uno a capire che proiezione è e quella proiezione lì magari è in Gauss-Boaga o 32 nord o google mercator c'è queste categorie c'è questo codice nulle quando non si sa cosa c'è civico tipo e avanti di questo qua si codice codice cassonetto poi qua non so c'è anche il colore che è 0 per tutti non so perché c'è colore se avete visto quando io premo in cima alle alle colonne qua c'è la freccia che va verso il basso se premo la porta verso l'alto quindi dovrebbe cambiarmi l'ordine infatti se vado qua che è un po' più sensato categorie le me le ordina l'ordine crescente è come se fosse un file excel e avanti di sto passo sotto avete un po' di strumenti che vi permettono di fare anche ricerche e cose varie come prima se io vado sull'esterno di una riga premo si illumina il punto adesso non si vedrà niente perché c'è un macello ma vi garantisco che c'è se vuoi vedere dov'è niente non mi fa lo zoom al punto allora adesso io ho questi dati li ho visualizzati non mi piacciono questa visualizzazione piccola banalità qua sulla destra ho l'elenco dei layer tenendo premuto posso trascinarli e portarli sotto o sopra avete visto adesso li ho messi sotto sono finiti sotto non dico che non li vedo più perché qualcosa si vede lì come avete visto con la rotellina del mouse posso fare il zoom se non posso fare se me li perdo allora se voglio fare lo zoom su un layer layer sono i livelli che ho caricato faccio bottone destra zoom all'estensione del layer e me lo fa di quello lì questi due sono abbastanza simili e quindi prendono assieme se scarico i monumenti ho visto che i monumenti invece sono un po' più lontani cosa posso fare adesso circoscrizioni e altre cose scusate altre cose di navigazione allora qua c'è questa freccia con la i vedete se io premo questa e vado su un layer però facciamo attenzione vedete che io mi sposto qua premo qui e non si capisce non viene fuori niente eppure premuto su un rettangelo sul sul poligono è perché sulla destra ho selezionato i cassonetti seleziono le circoscrizioni ho ancora la freccia con la i di informazione ho scelto le circoscrizioni se premo qua mi fa vedere quella quella area lì e mi dice cos'è vi torna? qua trovate descrizione insomma le quattro informazioni della tabella che abbiamo visto prima poi trovate derivato 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 vuol dire che sono dati che si calcola QGIS allora area vi dice che sono circa 33 km quadrati perché si è calcolato QGIS se guardate qua sotto area che è il valore che è contenuto corrisponde i di geometria è il valore che gli ha assegnato lui questo azioni ve lo dico e mi fermo vi permette di associare però quando fate un lavoro con il con QGIS un input che prendete dal programma mandarlo a un altro programma del tipo quando io voglio che ma ve lo dico proprio perché non voglio perdere troppo tempo è l'azione è perché compare nel menu è meglio spiegarlo vuol dire che quando praticamente io farò click su quella cosa io metterò una linea di comando che prenderà ad esempio il valore del dell'area e la passerà a un programma che farà un altro lavoro di qualche altro genere o che salva in un file avanti di questo passo per chi si occupa di scripting questa cosa qua è utile lasciamolo così che non è un problema è solo sapete cos'è azioni avete capito comunque è utile per capire determinate cose il QGIS2 si porta dietro qualcosa in più sui calcoli derivati qualcuno c'è QGIS2 vero qua? solo uno? ok questo qua mi è rimasto giallo perché l'avevo selezionato prima vi ricordate? se io premo questa icona con la la fraccetta sopra il giallo e il divieto mi permette di deselezionarlo questa probabilmente le frecce che ci sono qua non sono uguali alle vostre ok? ad esempio questa qua della manina se apriamo la manina mi permette di portare a spasso la mappa per lo schermo qua sulla destra nel mio caso c'è una freccetta che se la premo mi fa vedere tutti gli altri comandi che ci sono che forse voi li avete come icone mi torna? allora qua ad esempio vedete c'è la lente col più la lente col più mi permette una volta selezionata l'icona l'icona cambiato forma di fare delle zoom quindi faccio un bel quadratino e mi fa lo zoom se non faccio il quadratino faccio doppio click e mi fa lo zoom è la stessa cosa che che la rotella io per riuscivo la rotella perché è più veloce no? però se magari uno dice ma qua esattamente cosa c'è tac lo vede meglio posto? le altre cose che permette di fare dopo c'è lo zoom meno che vi permette di andare indietro recuperare questo qua vedete zoom completo vuol dire che se voi avete caricato tanti layer diversi vi fa lo zoom su tutta la vista che c'è possibile immaginabile posto? tutto qua non è difficile qua poi alla fine è spipolamento uno sta lì ci sgioca si diverte è morta lì andiamo su altre cose più divertenti dicevo prima che aveva chiesto Chiara che voleva capire meglio il discorso ma il modello dei dati e cosa ci posso fare allora adesso vogliamo vedere sulle circoscrizioni bottone destra proprietà fare qualche tipo di interrogazione allora l'interrogazione che andiamo a fare è un'interrogazione banale perché gli chiediamo di colorare la mappa va bene? niente di che allora qua gli permette di fare simbolo singolo categorizzato graduato tramite regole spostamento punto lasciamo simbolo singolo vuol dire che è il modo con cui voi andate a si dice vestire i vostri dati qua c'è simbolo singolo c'è questo rettangolo se voi fate cambia vorrei far vedere diversi diverse opzioni una delle opzioni è stile di riempimento e qua vi divertete a fare quello che fa un grafico in fin dei conti allora stile di riempimento potrei mettere nessun pennello do ok aiuto è sotto è sotto non riesco a vederlo ok ero affinato sotto la barra ho dato nessun pennello e come vedete adesso il riempimento del dei miei poligoni è diventato bianco è trasparente in realtà perché gli ho dato nessun riempimento tutto chiaro semplice no? facciamolo sui cassonetti bottene a destra ancora proprietà simbolo singolo se andiamo su cambia invece mi permette di avere anche delle delle iconcine diverse iconcine che se andate sopra dove c'è scritto indicatore semplice vi permette anche di cambiarle con dei caratteri i font che usate la F oppure se usate le font che hanno dei simboletti vari o degli svg che sono già pronti già disponibili come vedete una serie poi dopo voi potete caricarne altri perché se guardate qua sotto c'è da sfogliare e le andate a dire dove sono dei file svg svg è un formato di file vettoriale giusto per uno mi dice ma dove li trovo lasciamo parlare del discorso licenze se uno va su google e cerca file type svg sapete se usate su google il comando file type due punti il nome dell'estensione e dopo cercate la parola che vi serve vi trova quella parola lì soltanto in quella tipologia di file una risorsa aperta che potete riusare senza nessun problema è openclipart.org su openclipart.org trovate una montagna di svg pronti per essere usati come clipart e c'è una comunità dietro che continua a disegnarne e inserirne potete poi usare anche tutte le risorse di openstreetmap perché anche tutte le icone di openstreetmap sono riutilizzabili e anche lì basta andare su github e ce ne trovate comunque qua basta che ne scegliamo una scegliete voi ma figurati c'è una domanda su twitter che dice chiedete Anna vantaggi di lasciare dati in geojson e come li produco non so se vuoi rispondere adesso se ne vuoi parlare dopo spondo dopo perché dopo faccio vedere come si convertono i file e allora dopo spiego anche perché cosa è il vantaggio allora adesso ho scelto l'icona come sempre qua non ci sta dentro ma quanta gente c'è che ci segue perché poi ho il telefono che mi arrivano i messaggi città tutti quanti che è sempre il solito un'appo soppeggiata torna utile per dare geografici su voci wiki openstreetmap qua io chiaramente non sono riuscito a farlo perché ho sbagliato non c'è alcun altro senza tante storie perché qua il problema è che non vedo la chiusura con questa risoluzione qua ho fatto dei rombi no? potete scegliere tutti i vostri colori avanti di sto passo torniamo sempre sui cassonetti ci sono? posso andare avanti Chiara? in fondo non vedo cosa fanno però mi danno segnale di vita ogni tanto è una cosa che mi da fastidio se non mi vuoi seguire vabbè a posto però mi da fastidio quando non riesco a tenere tutti sotto controllo perché dopo non è che ti faccio nessuna critica dopo ho proprio una sensazione di nervosismo infatti quando facevo lezione a lettera che avevo 50 delle studentesse che spiegavo l'XML ah! follie vabbè abbiamo detto che c'è simbolo singolo però c'è anche la possibilità di categorizzato e graduato cos'è la differenza? basta farci click e non si capisce ma ragionando un attimo categorizzato vuol dire che prendo delle variabili che sono categorie quindi maschio femmina ok? invece graduato vuol dire che ho dei valori tipo l'area mettiamo che l'area o il numero di abitanti per circoscrizione che è quello che andremo a fare dopo voglio vedere un valore diverso in relazione al numero di abitanti per circoscrizione dividendole per classi allora è un valore continuo e quindi posso creare delle classi allora facciamo in teoria quelli da sono possiamo fare tranquillamente categorizzato perché abbiamo visto che c'è la categoria dei cassonetti erano 1,2,3 qua mi scelgo la colonna su cui deve fare questo mi sta impiovendo messaggi di twitter scelgo categoria e se guardate qua categorizzato colonna categoria scelgo sotto classifica perché gli dico al computer di dare di dirmi quanti sono i valori univoci che ci sono all'interno di questo elenco e di associare in automatico un colore a ciascuno di questi ho scelto una scala di colori che in questo caso era dal bianco al blu potrei prenderne un'altra di qualsiasi altro genere che c'è qua sotto facciamo posso anche crearmi una nuova come vedete scelgo questa classifica da colori diversi se per caso non vi garbano questi ve li cambiate voi tanto sono 3 quindi io faccio che il valore 1 cambio il colore li metto un giallo il valore 2 il momento arancione e valore 3 lo lascio così lo lascio blu non voglio fare i semafori e sotto sperando sempre ta 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 eccoli là e tutti i colori sono cambiati in relazione a quello che voleva dire che vuol dire poi le categorie dobbiamo andarci a vedere i dati per capirlo categorie 1 2 3 però però questa informazione dove dovrebbe esserci allora un po' di roba con un po' di intelligenza la becchiamo perché apri tabella attributi cioè qui in teoria dovrebbe esserci scritto che cos'è 1 2 3 dovrebbe esserci scritto qualche aperto tra l'altro noto che c'è categorie 2 3 c'è anche tipo viene da ridere perché eh non lo so per esempio io avevo provato anche c'è un'altra cosa che ho notato qui è il problema dei metadati eh già è questo avevo provato a fare qualcosa con le aree verdi e lì ho notato per esempio che sul campo area che vabbè saranno credo metri quadrati non lo so invece però non dice qual è l'unità di misura da nessuna parte allora l'area se il dato l'area era shp underscore length cioè aspetta no non lo so ma dopo lo scarichiamo non c'è problema guarda un attimo qua però vedi che qua c'è scritto shape underscore area se è questo qui vuol dire che è lo shape calcolato quindi è l'area data come se fosse tutto piatto e ti dà quell'area lì quella che ti calcola QG il derivato che dicevo prima ti calcola QG se invece c'è scritto area qualcuno ci ha messo dentro un numero eh va a capire se quello lì cioè lì sembrerebbe il dato magari te l'ha fatto in centimetri quadrati magari è proprio l'area giusta perché hanno fatto un calcolo anche usando modelli di dubito però vado a capire no e lì quando ci sono questi problemi infatti il messaggio che do a voi è nel momento che iniziate a produrre dati visto che dopo ci si diventa frustrati dal fatto di capire cos'è questo tipo ma la cosa più bella che mi piace citare è sempre Andrea Borruso che guardando i dati di Palermo aveva trovato una colonna che si chiama Giancarlo e non si è ancora caperto chi ha scoperto cos'è Giancarlo o chi è Giancarlo avanti di sto passo però è fondamentale quantomeno e la prima cosa che vi dico a voi è lavoro semplicissimo perché dopo se si va a dire a questi qua ma date i dati del 2006 li avete aperti eh magari questi quattro non è indietro è meglio dire ho visto questi dati cos'è il tipo cosa vuol dire quelle cose lì li prendo e inizio a fare il mio dataset in cui spiego questa cosa che è di aumentare il riuso il più possibile voi se iniziate a fare queste mappe che mi raccontavate prima vedete di dare maggior spiegazione anche se non è una spiegazione fatta con tecnologie che capiscono le macchine tipo linked data eccetera datene anche in linguaggio naturale anche se in italiano fa lo stesso quantomeno qualcuno lo capisce piuttosto che qua adesso io voglio capire la differenza tra categorie e tipo che mi hanno dentro lo stesso numero dovrei guardare i dati a tutti quanti per vedere se corrispondono perché secondo me è ridondanza comunque qua come vedete chiaro che è chiaro ma infatti quando si dice però spieghiameli anche però io sono dell'idea parlo di questi sexy dati se questa cosa qua se questi dati qua li tengo interessanti mi sbatto per capirli di più se li tengo interessanti rimangono lì nell'oblio si si però è chiaro che una persona che lavora bene adesso non voglio fare offendere le persone che ha fatto questi dati set questi dati set ha comunque riferimento quantomeno mettimi ad esempio i dati dell'istat se vai sul sito dell'istat anche quelli la quando te li scarichi non vogliono dire niente ma se vai a guardare bene c'è scritto anche cosa su tutti i riferimenti di indicatori c'è anche scritto la metodologia della raccolta c'è scritto tutta la cultura del dato spiegata per bene si il problema molto è che magari questo tipo va a vedere la delibera 7497 di dieci anni fa che c'è scritta sta roba e questa qua è la sua applicazione in questo senso comunque qua abbiamo fatto tutti questi puntini tutti belli colorati che fanno le loro cose facciamo un'altra cosetta carina sempre sulle circoscrizioni bottone destra proprietà andiamo a vedere le etichette chiediamo le etichette andiamo a prendere scusate sono troppo veloce bottone destra proprietà mostra etichette campo dell'etichetta facciamo descrizione perché in teoria dovrebbe essere giusta quella e qua un po' di informazioni su quello che può fare come deve essere fatta avanti di questo passo quindi l'ho data e come vedete sono apparsi i nomi delle delle varie circoscrizioni mi sono mangiato le parole poi addirittura una ridondante levo a se io ho i dati caricati va bene però per questo momento tutti i cassonetti mi da fastidio perché non riesco a leggere cosa è scritto sotto qua vado sotto su quella x lo levo levo la visibilità e mi appare e qua andiamo a vedere come sono segnati tutti i nomi delle varie zone circoscrizioni si fatta questa posto allora abbiamo i nostri cassonetti e le nostre circoscrizioni quello che mi interesserebbe fare ho visto che sul sito avevo visto che ci sono il numero di abitanti abitanti l'ho trovato allora vi fidate cioè facciamo una cosa senza andare a calcolare perché non voglio portarvi a troppo tempo perché quello che l'ho fatto è due cose che ho visto interessanti sono tra i dati del comune poi dopo sono vecchi eccetera allora ho visto che ci sono i dati delle lezioni divisi per sezioni ma non ci sono le sezioni intendo dire non ci sono delle geometrie che descrivono le sezioni c'è un file che descrive per ogni sezione a che circoscrizione è quindi prendendo i dati delle lezioni agglomerandoli per sezioni sappiamo per ogni circoscrizione possiamo sapere i dati delle lezioni questo lavoro qua non ve lo sto a spiegare adesso c'è bisogno di prendere e fare somme alla fine poi obiettivamente non è che è un'area talmente grande la circoscrizione che secondo me tra l'altro c'è anche la divisione per quartieri ma manca la divisione per quartieri cioè ci sono dei dati divisi per numero di abitanti sono divisi per quartieri ma non c'è la geometria dei quartieri sul sito onestamente io tiro una riga a caso vi dico sul sito dei dati del comune l'unica divisione per aree che ho trovato è questa qua circoscrizione non riesco a dirla però perdonatemi ho dormito quattro ore però insomma ho rompendo le scatole oppure costruendola voi se la fate dopo vi faccio vedere anche un modo abbastanza squallido per farlo nel senso che ho trovato un'immagine e su quella lì possiamo lavorare comunque siamo su questo allora queste circoscrizioni hanno il loro nome hanno anche i loro numeri qui prendiamo le cifre romane che va bene anche se non sono proprio un id unico ma sono univoche come valori allora quello che io faccio è prendere un foglio di calcolo adesso uso excel perché io in cui faccio a finta e quindi spero che non sarò di nessuno di mettere la circoscrizione circoscrizione e dopo nella riga successiva si metto gli abitanti ok quindi se abbiamo la prima la seconda la terza la quarta la quinta la sesta la settima l'ottava e la nona sono nove se non sbaglio e qua ci metto dentro un po' i numeri a caso senza saperlo in realtà voi che siete bravi vi andate a scaricare il file degli abitanti divisi per quartiere e andate a fare la tabella pv che vi fa le somme e vi ottenete lo stesso file che sto facendo io ok potrebbe essere gli abitanti come potrebbe essere il numero di gatti che ci sono insomma qualsiasi numero che volete associare alla circoscrizione quello che voglio fare in questo momento è prendere la tabella delle circoscrizioni e aggiungere a questa altri attributi facendo un file esterno questo file esterno quindi circoscrizione 1 800 per 90 persone la 2 34 4 gatti sparo numeri a caso eh mi permettete sì io non so quando perché tra l'altro prima di venire qua ho detto a chiara ma quanti siete perché mi sembrava fossero 500.000 sicuramente sbaglierò comunque metto numeri un po' a cavolo no così non sono veri questi numeri eh li ho messi a caso solo per capire ho creato un file questo file qui lo salvo come file csv formato csv quindi ve lo ho da cercare csv ho detto sempre questo download ormai l'ho messo lì scrivo abitanti anche se non è vero facciamo che il numero di pizza consumate al giorno o il numero di panzaroti abitanti.csv salvo ma basta tutte queste cose ci siamo? che dato questi numeri sono abbastanza anche sproporzionati fra di loro l'ho fatto apposta ce l'abbiamo tutti questo file qui così con dei numeri diversi e quindi vi verranno fuori cose diverse se ho creato questo file la cosa bella è che questo file me lo posso portare dentro QGIS posso farlo in due modi allora o prendo la directory dove c'era il file e punto sul file drag and drop sulle finestre sull'elenco dei layer manualmente ok posso fare così oppure faccio layer e lo aggiungo come layer come vettore solo che dovete fare attenzione solo a una piccola cosa banalissima che quando fate sfoglia qua sotto ci sia scritto il formato ok quindi qua ve lo cercare csv abitanti apro non è un file di tipo geografico non ha neanche coordinate infatti se vedete i cassonetti c'è il morbillo qua no? ci sono quattro puntini le circoscrizioni c'è questa patata che è dentro altre altre sezioni gli abitanti è proprio segnato come tabella niente di che però sappiamo che gli abitanti se apriamo la tabella degli attributi ha questo campo circoscrizione con dentro questi numeretti qua questi numeretti questi di sinistra che poi non sono numeri sono lettere sono cifre romane ma voglio spiegare a computer è uguale a quello che c'è qua dentro quando apre la tabella degli attributi nomen underscore circ quindi la chiave di unione fra due è quella lì se la chiave è quella lì bottone di destra su circoscrizioni e andate su proprietà sotto proprietà trovate questo join in alto questo join premete sul più quindi vi dice qual è il vettore che vuoi unire e quindi andiamo a dire abitanti qual è il campo di unione circoscrizione con cosa lo devo unire? con nome no numero 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 secondo me era nome scusate vado a vedere eh nome underscore circ perchè abbiamo fatto confusione io con sul fatto che le cifre romane allora abbiamo detto abitanti e con nome underscore circ do ok e lui adesso qua non mi dice assolutamente niente poi qua con la fortuna che ho becherò la nulla anziché l'ok adesso se io vado a vedere sulle circoscrizioni la tabella degli attributi mi ha aggiunto il numero di abitanti c'è una colonna abitanti ok vai 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 non c'è problema torno indietro tutta la volta che vuoi allora ci sei anche tu qua con lo stesso problema? sì io il csv devo caricare ok il csv allora il csv o lo carichiamo che è la cosa più semplice in assoluto con un drag and drop quindi lo punto nella cartella dove si trova lo trascino dove c'è l'elenco dell'air e rilascio e me lo trovo lì che è la cosa più semplice in assoluto interessante in che formato è? eeeh come sei sicuro che è un file csv? scusa la domanda eh perché magari ti dico solo che una volta facevo lezione e dico madonna non va il proiettore non va il proiettore è diventato scemo chiamo il tecnico e ho il tappo sopra il proiettore altrimenti se non fai il drag and drop Chiara ci sei? Paola ci sei? l'avete portato è dentro a posto ok allora rispondo a lui adesso se vai sotto layer aggiungi vettore dove fai aggiungi vettore hai e ti viene fuori l'elenco layer aggiungi vettore ti viene fuori il sottosfoglio l'elenco di tutti i formati qua sotto trovi tanti formati fai testo delimitato scegli il file abitanti.csv ci fa doppio clic e lui lo tira dentro ti torna? allora forse è il file che ha fatto male da altro posto si vuoi che mi fermo o posso andare avanti? ok Chiara Paola ci siete? allora allora io vado sulle circoscrizioni continuo a mangiarmi le parole non riesco a dire quella parola sto aspettando che il corsato faccia un commento ma non l'ho ancora fatto bottone di destra proprietà in mezzo alle proprietà tra tutte le tante cose che ci sono disponibili c'è questa join se premo su join c'è il bottone più premendo su più mi dice qual è il vettore da unire e lo scelgo e dopo cos'è il campo con cui lo unisco quindi il vettore da unire è abitanti il campo che mi farà da unione tra la tabella abitanti e la tabella sotto perché è nome underscore circa ok? allora il campo unione quale campo vai a prendere della tabella abitanti vedi che qua in alto guarda un attimo qua abitanti vedi che se premo qua o abitanti o a mio cassonetti il campo unione vedi che c'è circoscrizione oppure abitanti a me interessa la circoscrizione quindi premo quello sotto se al campo di destinazione vuol dire qual è quello che magari ha un nome diverso ma che i contenuti concidono da una parte e dall'altra chiaramente il numero dei valori deve essere corrispondente tra le due parti è il numero di righe alla fine deve essere una chiave univoca che c'è da entrambi le parti perché se non c'è quella chiave univoca se da una parte ne hai 100 e dall'altra parte ne hai 10 è chiaro che non non corrispondono uno a uno deve essere una corrispondenza uno a uno quindi qua sotto il campo destinazione è nome underscore circa fatto quello dai ok e dopo ti trovi con questa voce qua sotto torna? tu ci sei? a posto allora chiudendo questo e facendo apri tabella attributi mi fa vedere l'elenco delle attributi e vedete che nell'elenco delle attributi adesso c'è anche abitanti posto? vi dico subito che c'è un errore ma ci entro dopo nei dettagli perché ve lo faccio scovare l'errore cioè non è che è un errore è un problema ma adesso ve lo spiego posso andare avanti? e allora probabilmente nel tuo csv manca la sua corrispondenza allora ne approfitto per fare questa cosa io ho un campo che è esagerato vedete la riga 5 qua da me? vedete che c'è un 54.656 adesso ok? dato che ho sbagliato di prima digitare ne approfitto per spiegare a Chiara come fare se andate qua in basso c'è questa iconcina a forma di matita se premete lì questo sotto va cambia forma vedete che è diventato tutto rosso perché vi permette di andarlo a modificare quindi vado qua io ricancello l'ultimo 6 lascio un faccio un 5.400 via ok? quindi così tu puoi modificare quel valore lì ci siamo? quando io ripremo il bottone sotto di modifica lui mi dice questa cosa qua e lo lascio perdere adesso secondo me bisogna aprire il suo file csv e vedere se nel suo file csv c'è un errore cioè secondo me nel suo file csv gli manca una riga magari sai che è successo che col fettacchino di excel quando ho scritto v mi sembra strano allora bisogna vedere i file grazie proseguo aspetto quello ditemi voi non ti preoccupare intanto ti racconto una barzalletta vai con la domanda fatti passare il microfono che mi dicono che è perché c'è Reggi quindi il tipo di join tra le due tabelle com'è? il tipo di join sulle tabelle è tra chiavi univoche devono essere chiavi univoche da una parte e dall'altra però la tua domanda è molto intelligente perché lo discorso è, ma cosa unisce? lui unisce soltanto stringhe che sono uguali, infatti quel campo lì degli abitanti in questo momento è un campo stringa non è un campo numerico, però volevo farvelo vedere adesso allora, visto che adesso abbiamo aggiunto questo valore, quello che possiamo fare è su circoscrizioni, bottone destra proprietà e andare a cambiare lo stile il riempimento abbiamo un simbolo singolo facciamolo invece graduato vado su graduato perché cosa voglio fare? ho questo numero immaginario di numero di abitanti per circoscrizione che dovrebbe darmi il numero totale di abitanti di Bari e se lo faccio graduato io potrei creare vedete che qua c'è scritto classi potrei creare 5 classi di Virland 5 ok? però vedete qua mi fa scelgere la colonna se scelgo la colonna vedete che non compare abitanti? non compare abitanti perché la domanda che mi ha fatto lui è corretta com'è che unisce le due basi dati? dato che il CSV è un formato da una parte comodo perché è abbastanza semplice ma dall'altra parte è un'altra schifezza pure quello infatti guardo Vincenzo perché mi ricordo del Kalashnikov dell'open data è il Kalashnikov dell'open data proprio perché fa disastri anche lì il problema rimane spiegatemi i metadati il CSV non parla da solo il CSV non vi dice che quel numero lì è una categoria oppure un valore continuo non ve lo dice deve essere spiegato fuori oltre poi a decidere com'è il separatore se punto virgola o virgola avanti di sto passo che è un altro macello allora il CSV è comodo perché non crea dipendenza verso software ma è scomodo allo stesso tempo perché necessita anche questo di essere ben documentato quindi un'altra volta messaggio se rilasciate dati rilasciateli sempre dando la spiegazione anche di come è stato fatto questo benedetto file compresa la codifica caratteri perché magari ho usato una codifica caratteri tipo l'UTF8 che la prende tutta e invece ho usato soltanto quella italiana ci sono dentro le lettere accentate lo prende quell'altro lo tira su e non lo vede l'accentata che poi sugli accenti è un altro macello allora prima cosa devo fare devo trasformare quel campo stringa in numero però adesso noi ci troviamo davanti a un dato che in questo momento è in memoria sul computer non è salvato e io ho modificato il dato iniziale ok creiamo un nuovo formato visto che qualcuno prima chiedeva anche del geogeson come faccio a farlo ma per assurdo questo formato qua potrei anche deciderlo decidere di salvarlo in KML per aprirlo poi con Google Earth perché fa figo comunque appare tutto il 3D e tutti sono felici eccetera allora io vado qua su bottone destra su questo circoscrizioni salva con nome e mi permette di cambiare il formato anziché lo shapefile che abbiamo detto che è diffuso tutto quanto ma si porta dentro tutti questi casini è meglio usare un altro formato ma soprattutto perché lo faccio un altro file in questo momento ne creo uno nuovo perché il file iniziale questo delle circoscrizioni se io inizio a distribuirlo col dataset che ho aggiunto è un altro file non è lo stesso dataset originario se per caso voglio usarlo in futuro mi conviene tenermi quello là di partenza su cui faccio le mie elaborazioni e aggiungere tutti gli attributi che voglio io in modo che la manutenzione di quel file lo faccia al comune in teoria e tutto il resto io vado a raggiungere le cose e comunque dopo qua si apre poi tutto un altro discorso che licenza ha che obblighi mi dà tipo l'attribuzione che comincia a fare l'attribuzione l'attribuzione con dentro tutte le cose avanti questo passo ma tralasciamo allora posso scegliere i n-formati tra questi c'è il geogason il geogason io adesso sarò anche ho tirato cacca sul ho detto una parolaccia vabbè ho parlato male dello shapefile fino adesso ho due nipoti uno di quattro e sei posso dire queste parole ho tirato ho parlato male sullo shapefile fino adesso però preferisco tenere lo shapefile per una questione che sono sicuro che QGIS lavora bene ok però mi si chiedeva prima se voglio fare un geogason allora geogason io vi consiglio geogason quando volete avere un file che volete portare su web dammi guarda adesso sai cosa faccio salvo un geogason e te lo faccio vedere come è fatto allora vado un geogason qui salva con nome mi decide come chiamarlo lo chiama abitanti punto geogason a parte che dovrebbe metterla lui l'estensione salvo vi faccio notare che qua c'era codifica system e ancora siamo sempre discorsi a codifica caratteri qua c'è sr del vettore sr c'è stata io ho contribuito a sto software dopo vi faccio vedere c'è il mio nome che compare a qualche parte ma adesso è un po' che non contribuisco se no quando faccio questi incontri e c'è stata tutta una lunga discussione perché si chiama crs vuol dire sistema di riferimento sr alla fine abbiamo deciso di chiamarlo sr però mi rendo conto che per chi non conosce il linguaggio sr sr del vettore vuol dire che il sistema di riferimento con cui il vettore da cui ho strappolato i dati sta lavorando va bene sr del progetto vuol dire che il progetto finora non abbiamo fatto il progetto abbiamo caricato file ma se io integro fonti diverse con proiezioni diverse posso decidere a monte una proiezione che vale per tutti e QGIS fa la trasformazione ok sr del progetto potrei mettere quello quello che ho deciso o sr selezionato in realtà qua la stringa dovrebbe essere seleziona sistema di riferimento e se premiamo seleziona sistema di riferimento qua nel WGS84 UTM33 Nord qua nello sfoglio mi permette di andarlo a cambiare allora in questo momento vi sto spiegando che con QGIS anche se fa anche i tortellini quello che vi permette di fare è anche di salvare i file in formato diverso e di cambiare anche il sistema di proiezione dei dati tutte le regole di trasformazione che vi ho detto prima ci sono dentro QGIS tutti i sistemi di trasformazione il GDAR che vi dicevo ci sono dentro QGIS quindi qua potete andarveli a prendere questo è il computer di Gabriele vedo che lui ha a che fare parecchio con Montemario Gauss Buaga zona 1 e qua ci sono di volta a volta quando uno si carica solitamente quelle più usate compaiono in alto se qua cerco dove c'è filtro 900 ho scritto su filtro 900 e qua sotto c'è scritto google mercator che è la 900 913 che dicevo la parola qui io adesso allora il mio consiglio quando distribuiamo i file è quello di seguire l'esempio di Vienna Vienna distribuisce i suoi geodati la città di Vienna come open data distribuisce in n formati lo shapefile per quelli decoccio che continuano a usarlo il gml per quelli che le rompo le scatole dammi il gml che è più bello il kml perché comunque lo capiscono tutti perché comunque se uno si è installato google earth quando le dite guarda questi qua sono i luoghi non so esattamente quello che state facendo di mappa ma i dati della mappa che state facendo se fate in kml i luoghi belli di di Bari c'è kml uno ci fa doppio click non sa né leggere né scrivere li parte google earth li appare tutto ed è tutto felice no anche se però google earth uno sviluppatore lo usa uno sviluppatore che si occupa solo di view è felice del kml uno sviluppatore che invece vuole fare elaborazioni ha bisogno di un altro formato il geogason è un buon formato per gli sviluppatori allora il geogason lo userei rispondo alla domanda che è stata fatta lo userei per quel motivo lì e che proiezione andrei a usare alla fine è inutile nascorsi dietro un dito l'attitudine longitudine quindi vgs84 quindi la 4326 se distribuisco i dati è la cosa migliore a meno che non vado a parlare con quello che usa il GIS ma quello che usa il GIS lo sa benissimo come farsi le conversioni non ha bisogno quindi la vgs84 va benissimo se rimaniamo all'interno dei sistemi informativi nazionali e parlo di pubblica amministrazione lì ci sono delle regole e quelle regole devono stare e quindi loro vogliono l'ultima 32 nord l'ultima 33 il vantistopasso lì non c'è storia ma per i lavori che dovete fare voi come associazione mettetevi fuori tranquillamente vgs84 sappiate che per il kml esiste un solo dio vgs84 allora fate tutte queste storie vi sembrerò un po' cretino ma io lascio il 32 633 e lascio anziché il geogson lascio lo shapefile e lo chiamo abitanti perché vuole essere conservativo su quello che sto facendo adesso con l'applicazione qua vi permette di fare un po' di cose aggiungi il file salvato sulla mappa vedete ok quindi da ok posso andare avanti siamo quindi faccio questo file il file mi dice che è stato esportato e me lo mette tra quelli disponibili vedete che ho due voci abitanti uno è il file csv che avevo prima e l'altro circoscrizioni avanti di questo passo è diventato tutto viola ma chi ce ne frega quindi questi abitanti che ho adesso se faccio il bottone destra apre tabella attributi c'ha il campo abitanti che è diverso da quello di prima ok però questo abbiamo visto prima che ha un problema quel campo abitanti non è un numero ma è una stringa è testo quindi il lavoro che facciamo è di convertire quel campo da stringa a numeri allora come lo facciamo bottone destra proprietà campi e quando vado su questo campi qua mi da un sacco di informazioni mi dice descrizione è stringa e contiene al massimo 100 caratteri mi da la precisione perché se fosse un campo numerico mi direbbe quanti valori ho dopo la virgola ok nome circoscrizione eccetera eccetera allora non vi nascondo che tutto questo lavoro qua ci sono delle applicazioni online da google fusion table a carto db a geocommos che vi permettono di farlo online però non ve lo faccio vedere online per due motivi ci può farlo se c'è tempo perché mi interessa che capiamo cosa vuol dire lavorare sui dati perché magari questi qua un po' di cose le fanno anche in automatico ci ragionano invece così capiamo come lavoriamo sui dati e ci permette un grado di libertà superiore comunque qua come vedete c'è scritto abitanti stringhe a lunghezza 80 c'è questa fantastica voce che dice modifica valore no scusate qua in alto c'è questa iconcina questa iconcina a forma di matita che manda in modifica e quando ho premuto questo appare questa calcolatrice come un bottone che posso usare ok vi faccio rivedere vedete qua io premo questo mi appaiono questi due bottoni prima erano spenti adesso si illuminano sono bottoni che mi permettono di cancellare una colonna inserire una colonna io potrei anche farmi la manina la colonna la colonna abitanti per nove righe non è che insomma potevo fare a me fare tutto il lavoro fatto prima allora qua andando su questo sulla calcolatrice la calcolatrice vi permette di fare delle operazioni sui campi che già avete come se fosse il foglio di calcolo mi permette o di aggiornare un campo esistente oppure di crearne uno nuovo io ho il problema che il campo abitanti è un campo stringa e lo voglio aggiornare voglio modificarlo quindi faccio aggiorna campo esistente seleziono abitanti ok e guardate qua sotto c'è conversioni posto? su conversioni c'è to int to real to string quindi to int me lo trasforma in intero ci siamo? quindi premo to int e qua sotto mi fa la formuletta to int cosa qua c'è campi e valori abitanti e chiudo la parentesi vi torna? se non vi torna e volete fare come dico sempre le mie atlete le scimmie cioè non capire ma ripetere quello che c'è da fare è questa espressione sotto che basta scrivere tu int aperta parentesi abitanti la trasformazione trasforma in intero tu intero cosa abitanti dove lo faccio sul campo che già esiste vi torna a tutti? posso premere ok? dai che dopo questo vi faccio vedere due risultati di questa operazione dopo facciamo una pausa io posso andare avanti ma vedo che qualcuno è un po' stanco allora se si muove sotto perché non riesco ad andare sotto su sto coso infame risoluzione 800x600 eccolo qua ok e qua devo andarlo a dai perché non vai dai 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 io spero che riesco a salvarlo perché non riesco a vedere sotto la barra vedete dai vai via non uso windows oh qua levo il modifica e mi dichiaro se vuole osservarlo praticamente lo sovrascrive tutte le modifiche che ho fatto ah nota importante questo qua è diventato rosso insieme a tutti a questi tool che ci sono qua queste righe qua io posso cancellare i nodi allargare fare nuove geometrie posso far tutto è per quello che prima vi dicevo dopo vi faccio vedere come possiamo prendendo una mappa una fotografia un'immagine che c'è su wikipedia dei quartieri di Bari vediamo come portarla dentro la mappa georeferenziarla e dopo come poter fare le modifiche per avere i quartieri anche se non è proprio salvato il file l'ho salvato adesso se io chiedo però mi sa che non l'ha salvato vediamo un po' se chiedo lo stile del graduato non vedete l'ha sbagliato ripeto le azioni perché per qualche motivo l'ha salvato penso anche di sapere perché l'ha salvato perché non vedo sotto il menu aggiungo il campo esistente facciamo abitanti campione allora conversioni è intero abitanti chiudi provo a creare un nuovo campo anziché aggiornare con l'esistente perché lo vedo che non mi fa l'anteprima l'ho fatto proprietà stile visto che adesso nel graduato mi è comparso anche il numero che prima non c'era allora qua decido il numero di classi che devo avere adesso non mi conviene fare tante classi quante sono le aree perché a quel punto i colori però supponiamo che faccio tre classi fatte tre classi io do il colore facciamone quattro do il colore lui per definito mi fa scale di blu potrei cambiare io il colore beh scegliamolo facciamo scale di di rosso così da vista che ha cambiato no? allora come vedete è apparsa questa cosa che sono abbastanza vicine fra di loro no? ho messo a posto dei colori diversi perché il problema è che comunque c'è qua dietro un discorso legato alla densità quelle aree io le ho divise per quattro se guardate qui la prima aree da 34.000 a 13.689 se vado a vedere i dati quella divisione lì è chiaro che mi si infilano quasi tutti lì perché non è è perché di fatto ma l'ho fatto a posto a mettere dei dati con una varianza molto alta per avere questo problema dice l'ho colorata in quattro e mi vengono alla fine mi vengono fuori due no? anche se non perché qua volevo arrivare con voi è un problema dopo facciamo pausa dopo questo qua nello stile vedete che c'è intervallo uguale premette quantile di direzione standard davanti a questo passo c'è questo natural breaks jenks che è un algoritmo che è pensato per fare in modo che quando do una divisione prendo anche in considerazione dei fattori per fare in modo che veramente siano quattro categorie sensate fra di loro e non che ho preso diviso per quattro e ho fatto quattro pezzi quindi qua il modo con cui faccio le categorie deve essere anche ragionato in questa ottica qui su cos'è quello che ho davanti quindi se uso questo natural breaks jenks che è proprio un algoritmo che tra l'altro visto che reggi ci ascolta è quello usato da open coesione sul sito vedete che adesso la differenza dei colori sono quattro categorie come era sopra prima senza che sono stato diventato matto a cercarmi di usare i valori sensati me l'ha calcolato il computer e mi ha fatto questi quattro colori diversi allora adesso questo mi ha permesso di fare QGIS altri software che ho nominato prima online non so perché la divisione comunque per aree colori eccetera comunque si porta dietro un messaggio allora quando vado a fare l'infografica devo anche ragionare su questa cosa qua poi magari questa infografica non può piacere eccetera però già qua i pesi di questi colori sono molto più sensati rispetto a prima di quello che avevo fatto allora per ora mi fermerei qua io potrei andare avanti però vedo che qualcuno un po' stanco allora mi fermerei qua a meno che non mi dite voi ok 5 minuti va bene si faccio una cosa veramente l'ultima stavo lavorando su un progetto perché finora ho caricato 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 ma non ho salvato niente quindi io se vado qua su file salva progetto ok chiaramente non c'è un nome mi chiederà di dargli un nome e sperando devo fare casino sul computer suo si ma vado su su download qua lo chiamo bari ok salva e praticamente ho creato il progetto esattamente quindi adesso tutte le operazioni fatte sono nel progetto quando io ricaricherò il progetto ricaricherà tutti i file che ci sono senza nessun problema così dopo se andiamo avanti ce li abbiamo lì ok allora pausa rilevo questo no si grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.